Questa sera ospitiamo un attore molto bravo, molto giovane, che insomma molti tra i nostri ascoltatori che guardano solitamente anche la televisione riconosceranno senz'altro perché è uno dei volti di alcune delle fiction italiane più amate da Don Matteo a Un Passo Dal Cielo in questi giorni ed è Francesco Castiglione. Francesco buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Buonasera a te Francesco, ben arrivato. Noi siamo qui per parlare non di televisione però con te questa sera ma di uno spettacolo molto interessante che voi avete già portato in giro e che torna a Roma proprio da questa sera. Noi diciamo sempre ai nostri ascoltatori che le interviste che coincidono con l'uscita degli attori che intervistiamo sul palcoscenico dei teatri ovviamente le registriamo un po' prima. Quindi a poche ore dal debutto romano di questa sera Francesco al Teatro Amlet di Roma dove resterete fino al 26 febbraio c'è Maestri di Scacchi che è una performance incredibile. Molto particolare, è uno spettacolo molto suggestivo. Diciamo che vuole rappresentare la metafora della vita intesa come una partita sola in cui tutti sono costretti a dare il massimo dove ogni mossa può essere risolutiva o fatale. È uno spettacolo molto particolare. siamo dieci attori in scena, siamo dieci pedine, cinque bianche e cinque nere che si scontrano ed è una lotta praticamente. È un po' la metafora della vita. Una metafora della vita in cui non si escludono come dire colpi bassi, sorprese, una sorta di resa dei conti finale. C'è davvero di tutto. È uno spettacolo, mi pare di capire, Francesco io non l'ho ancora visto, ma ho visto dei trailer delle vostre performance e mi sembra anche molto fisico, molto difficile. Molto, infatti è molto faticosissimo per noi attori, è faticosissimo, però insomma per il pubblico è piacevole. Poi ognuno si rivede in un personaggio. Abbiamo avuto un bel riscontro negli anni passati, quando la gente usciva dal teatro insomma si identificava o nella regina bianca o nell'alfiere bianco o che ne so, della torre nera, perché ognuno insomma rappresenta una classe sociale. Ciascuno di voi è chiuso praticamente nel perimetro limitato di una casella. Il gioco degli scacchi lo rispettiamo al 100%, quindi le mosse sono veritiene insomma. Quindi anche gli esperti, anche gli esperti, i grandi giocatori di scacchi non vedranno cose finte o false, è tutto vero. Potranno divertirsi quindi anche a studiare le mosse eventuali sul palcoscenico, mosse che peraltro sono assolutamente imprevedibili. Voi siete dieci attori, Francesco, che vi siete messi insieme proprio, e quindi avete creato una compagnia che è la compagnia Andrea Bissau, vi siete messi insieme proprio intorno a questo lavoro. Ma guarda, in realtà oggi come oggi l'unione fa la forza, soprattutto a teatro, perché il teatro sta vivendo un periodo molto difficile, lo sappiamo, insomma è inutile che lo ribadisco qui. E quindi quando ci sono belle idee, c'è una bella scrittura, c'è tanta voglia insomma di fare, è bello unirsi e credere in un progetto. Noi per fortuna siamo dieci attori e tutti e dieci andiamo d'accordissimo, c'è un bellissimo rapporto, c'è tipo una famiglia. Abbiamo creduto in questo progetto sin dall'inizio, poi negli anni magari qualcuno se n'è andato per esigenze lavorative, è subentrato qualcun altro, tipo quest'anno sono entrate tre attrici nuove, però non... ed è rimasto sempre comunque un bellissimo gruppo. Posso fare i nomi degli attori? Assolutamente, se te li ricordi tutti e dieci, sì, tutti e nove ovviamente, visto che tu sei uno di quelli, dici. Allora, ci sono due attori con cui avevo già lavorato, che sono la Torre Bianca, Fernando Gatta, e la Torre Nera, Francesca del Vicario. Poi le due regine sono Patrizia Casagrande, che è la regina bianca, ed Alessandra Mancianti, che è la regina nera. Poi c'è l'altro alfile nero, io sono un alfile bianco, l'alfile nero è interpretato da Andrea Rettagliati. Poi abbiamo le new entry, che sono Valeria Zazzaretta, che fa il pedone bianco, e Francesca Verrelli, che fa la cavalla bianca, mentre la new entry, cavalla nera è Simona Di Bella. Vediamo, manca ancora, un attimo perché non vedi di carico. Ecco, vedi, lo vedi. Enzo Avagliano, che fa il pedone nero. Quindi penso di aver nominato tutti. Credo di sì, un esercizio di memoria. Scritto da Alessandro Garvaruso, scritto da Alessandro Garvaruso e Giuseppe Renzo. Vorrei nominare anche Violetta Canitano e Andreina Cortellesi per i costumi, le scene. E la musica è del maestro Francesco Perri, sì, sì, sì. Insomma, uno spettacolo molto suggestivo, ma molto carico di tensione, perché voi state lì a urlare come pazzi, a buttarvi l'uno addosso all'altro. Insomma, è bello intenso anche dal punto di vista fisico, come dicevamo. Guarda, infatti stavo ripensando ai nomi, no? L'ultima, mi manca l'ultima, perché non vorrei fare gambe. Ed è Valetta Zaretta che fa il pedone bianco ed è una delle new entry. Credo che dopo tutta la fatica di uno spettacolo come questo, che dicevamo fortemente muscolare, c'è, insomma, le tue interpretazioni in un passo dal cielo, sono una passeggiata di salute. È una passeggiata a cavallo, no, è diverso, insomma, il lavoro in tv è totalmente diverso. È faticoso per altri versi, però è faticoso anche quello. Piacevole, è un lavoro che abbiamo scelto, è un lavoro che amiamo, quindi lo facciamo con amore, questa è la cosa fondamentale. Ricordiamo che questo spettacolo Maestri di Scacchi, della compagnia Andrea Bissau, diretta da Alessandro Garvaruso, sarà in scena al Teatro Hamlet di Roma fino al 26 di febbraio, a partire da questa sera, ma poi sarete ancora in giro? Guarda, al momento ci sono delle date, però non abbiamo nulla di certo, però ci sono, insomma, buoni propositi. Venerdì e sabato siamo in scena alle ore 21, domenica alle ore 17. Voi l'avete già portato in scena questo spettacolo, naturalmente, tre anni fa. Ma qual è stata la reazione del pubblico? È strana, è bella comunque, perché ogni personaggio toccava l'anima di ogni persona, quindi appunto, come dicevo prima, magari sentivamo dire, io mi sentivo la regina bianca perché nella mia vita ho vissuto questa esperienza, quell'altro l'alfiere bianco, quell'altro il pedone, perché comunque ognuno di noi, come dicevo, rappresenta una classe sociale, ha un carattere, ci sono delle storie, e poi non posso dire tanto, ma ci sono delle storie, insomma, particolari all'interno dello spettacolo. È un meccanismo strano, quello che forse non si è mai visto in giro. Non vorrei piacere di presunzione. Credo che sia abbastanza diverso da quello che di solito il teatro propone. Chi è il più cattivo o la più cattiva, Francesco? Si può dire, questo possiamo dire, la più cattiva, ma un po' lo siamo tutti, perché poi ci ammazziamo, però è una lotta alla sopravvivenza, dove i più forti vincono, ognuno è disposto a combattere, a lottare per raggiungere i propri obiettivi, così come nella vita. È uno spettacolo molto interessante, devo dire, molto pieno di tensione, e davvero, come dice Francesco, che ne è uno dei protagonisti, davvero ci si può ritrovare molta parte di sé in ciascuno dei personaggi. Quindi fino al 26 febbraio il Teatro Hamlet di Roma e poi speriamo, in giro per l'Italia, a portare questa mostra, diciamo, di sentimenti umani più o meno buoni, più o meno corretti. Lo spettacolo è Maestri di Scacchi, Francesco Castiglione è stato con noi. Francesco, grazie e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, buona serata. Un abbraccio a tutto il resto della compagnia. Grazie, grazie, un abbraccio, ciao.